ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di francis drake oggi siamo di nuovo in compagnia con un gioco sporco sulle build battle in team ciao fra e ciao a tutti sì siamo nelle build battle teams e anche quest'oggi andremo a fare una partita sperando che o cosa questo intruso cosa vuole vai via diciamo che l'altra volta abbiamo perso con il maialino ma abbiamo visto che vi è piaciuto tanto esatto sì sì ci fa veramente piacere perché noi ci siamo impegnati abbiamo fatto una bella costruzione e costruzione abbiamo fatto un bel maialino ed eravamo molto soddisfatti però è andata così dai l'importante essere contenti esatto ripeto che l'ip è in descrizione il video di gioco sporco con la sua visuale lo trovate sul suo canale adesso possiamo anche partire con siamo pronti andiamo via eccoci qua eccoci qua ragazzi tema è il computer computer bellissimo bellissimo allora facciamo allora non possiamo fare il solito computer di tutti perché altrimenti sarebbe cioè tutti gli altri faranno un computer esatto quindi possiamo fare allora mi sono due opzioni in mente esponi la prima è un computer vecchio di quelli che dietro avevano tutto quel ok si si col monitor bello grosso sì ok possiamo fare un computer futuristico che magari non lo so c'è una forma particolare tipo un case forma di creeper che ne so è un po' strano possiamo iniziare a fare il tower vediamo un po facciamo il tower intanto prendo la lana nera lana nera eccolo qua possiamo farci tipo delle luci tower sai quelli fighi a quelli ho capito quali sì c'è un amico c'è un tower fighissimo io c'ho uno troiaio però fa il suo insomma anch'io c'erano uno figo adesso finalmente anche un tower si metto poi c'è tipo roba alla razzer allora di solito c'è una parte che è aperta come quel caso però dall'altra invece che tipo chiuso o magari c'ha delle cose diverse mi faccio così ma lo faccio pure rosso sembra una casa futuristica le uscite usb vuoi che nel mentre faccio il monitor fra ti fai molto allora vediamo un po come potrebbe essere io sto guardando il mio computer che c'ho davanti il case del mio computer così vogliamo fare quello quello vecchio stile possiamo provare che dici ma ora facciamo uno futuristico stramoderno che un monitor gigante in 4k ci scriviamo 4k dentro se ne pare cosa ma facciamo una cosa moderna con dentro scritto 4k così capito e io intanto nel frattempo si mettere un vetro diverso colorato che vetro ci potrebbe stare allora se l'ho fatto asimmetrico si è asimmetrico bianco 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 ci sta bene dai si 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 nella ventola qui c'è la ventola dietro quindi facciamo così io ci provo poi sicuramente non verrà un granché ma ma noi siamo qua per provare siamo qua per vincere ma siamo qua per stravincere vero fra ok basta allora io devo mettere le uscite usb dietro qualcosa faccio anche il cavo anche e metto anche qualche pulsante carino qualche bottone carino vediamo un po custom skulls color io faccio anche la la spina attacco della spina bravo 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 vediamo un po che cosa c'è di testa interessante vediamo un po blocchi io metto questo guarda cosa non è venuto in mente no non sta venendo affatto male guarda cosa mi piacerebbe mettere fra il tasto tipo d'accensione vieni qua arrivo abbiamo due minuti oddio stanno andando a sbattere contro il moll eccomi una cosa cosa con no niente non si può fare ok e mettilo qua a bravo guarda che brutto no è carino carino facciamolo più grande il monitor perché no vabbè va bene così ormai perché va bene così facciamo la tastiera sì allora il 4k ce lo scrivo si scrivici come fa scrivelo a con il cartello no in realtà volevo scrivono con tipo il quarzo e scrive un 4k però fa in tempo no non faccio in tempo c'è una tastiera farlocca si la lana nera possiamo metterci una lana colorata però no vabbè dai va bene così va bene così ma quindi questo cos'è un mac è un mac futuristico pc roba 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 futuristica senza cavi senza niente va bene allora facciamo la tastiera la facciamo con bravo si sì 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 possiamo fare così che dici il tasto spazio poi vedete è carino guarda futuristico futuristico bellissimo non troppi e ma non sembrerebbe ah ah sì bravo il mouse il mouse aspetta che faccia la foto che serve sempre aspetta aspetta 27 secondi ok ti aiuto così così il nostro computerino io penso che sia dai questo sì ci sta carino anche questo si non è male ok tower era dietro perché di legno non ho mai vista una tastiera di legno che brutto no 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 questo assolutamente no che brutto perché la tastiera marrone che cosa ci fanno con la tastiera questo voglio capire ecco questa era l'idea quindi questo gli do ok non è male non è male ma questo è un questo è semplicemente un idiota si fra è un idiota questo qua probabilmente lui ha un computer del cazzo e quindi è invidioso questo è bello questo merita leggendario è il legge merito leggendario questo cos'è invece no però non è giusto hanno queste idee non ci vengono sì carino ok noi do good carino sì 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 anche questo carino bello good anche questo ma anche dentro minecraft dentro minecraft un inception un minecraft minecraft ception questo è carino in ok e dai ci sta anche questa volta la gente si è impegnata e fra mi dà ok 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 perché non affitto il tower invece troviamo un coso anche brutto nome brutto fra mi piace dai ma questo carino ma ha fatto anche ha fatto router ha fatto router no la presa è sì c'era da immaginarsi siamo arrivati settimi stiamo perdendo la nostra linea di vittorie di seguito fra com'è questa storia ma non vuol dire l'importante essere soddisfatti di quello che si fa quindi sì fra siamo soddisfatti vero che dici ma comunque noi invitiamo sempre nostri scritti come sempre come la scorsa volta scriveteci il vostro voto sotto i commenti perché noi guardiamo più quello che questo non è una scusa per dire abbiamo perso ma no 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 ci interessa molto il vostro parere dato che stiamo facendo video anche per mostrarvi le nostre così diciamo abilità chiamiamole da costruttori sì abilità vabbè sì quindi niente vostro parere è importante ci sta davanti scriveteci il vostro voto perché non contiamo più di quello che ci dà il gioco almeno esatto la possibilità di vittoria perché siamo raccomandati quindi niente ragazzi il video finisce qui noi ci vediamo la prossima volta come sempre vi invito a vedere il video di gioco sporco e se siete nel video di gioco sporco guardate il mio video esatto quindi io vi invito a vicenda cioè vabbè avete capito andate a vedere il suo video se state guardando il mio e iscrivetevi anche al suo canale e guardate anche gli altri video che ci sono esatto gli altri video sì perché abbiamo fatto altri video della beat battle e ne faremo altri ne faremo altri bene ragazzi detto questo noi ci vediamo la prossima volta ciao a tutti ragazzi al prossimo video ciao ciao